Giorni, 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 affermatelo, giorni, calmare Allora, benvenuti, allora sono tutti in vesco di... Fire Scout, dipende da quello che vuoi dire Prima prima è stato utilizzato quindi ho fatto la scelta, abbiamo fatto la scelta di rinunzione Assolutamente Siamo qui per presentare una nuova linea di Eliquid France Qui si può essere molto in sud Italia E' un po' più vicino al lavoro Eccomi, non prenderà la compagnia Adesso vi diamo l'occasione di provarvi ancora meglio Una nuova linea di Eliquid France? Si, ti puoi dire qualcos'è? Certo, praticamente abbiamo il track off di Eliquid France del Duvaldo E' il Dunderechi E' il terzo Ma a Tarino le non le arance ragazzi A grumi C'è l'emozione, c'è l'emozione Ok Facciamo così, io direi che li scarpiamo e li lanciamo Però prima mi faccio dire un po' di disciplina per il discorso Forza ragazzi, forza Siete il cazzo di Paraculsi Ragazzi ne lancio solo pochi Confezione, confezione, fare le spazzate eh Falli male, falli male, colpisci l'impaccia cazzo Guarda com'è stagno Chi mani Guarda ragazzi Guarda gli assarravati Si Clos Compluti Voo Bè No Accela al postor bile Padre li male Così Ah Vai presa avrai presa Vedľ bene Forza lo avrai preso Ragazzi Una garantia per Eliquid France Fan靄li male Forza riparale Wow So have sure So have sure È un milone per Eliquid France Vai, vai, vai Lea fa male, te lo devi garantire